Le ragazze che si chiamano Chiara non sono tenute ad essere chiare di pelle e neanche di capelli perché chiaro significò innanzitutto chiaro di voce. Ricordiamoci che gli strumenti con la voce più squillante. Nell'orchestra sono per puttacaso il clarino e il clarinetto. Le trombe con la voce più squillante, quelle che si usano ancora adesso quando si presenta in Pompamagna il sindaco di Firenze, sono le chiarine. Poi questo clarus passò a indicare anche chiaro di fama, pre-claro, poi anche chiaro di colore, ma innanzitutto è chiaro di voce.